Sabato 17 settembre alle 17 alla Borsa Merce di Arezzo riprendono le attività dell'Associazione Culturale Cultura Nazionale. Un grande appuntamento, si parte con il botto, di che cosa si tratta? Viene la dottoressa Scopelliti, compagna di Enzo Torto, a rappresentare il suo ultimo libro Lettera Francesca, un grande libro che raccoglie tutte le lettere che Enzo Tortora inviava dal carcere per l'ingiusta detenzione per quello che ha subito, ha la sua compagna Francesca Scopelliti, lei le ha raccolte tutte in un libro e diciamo che è un grandissimo evento che da lustro e da l'anteprima di quello che sarà Cultura Nazionale per la prossima stagione, una grande stagione che cerchiamo di onorare al meglio per Arezzo, questo credo che sia un evento molto importante, tra l'altro i patrocini sono di tutto rispetto perché si parla del Comune di Arezzo, si parla della Camera di Commercio di Arezzo, si parla della Fondazione Forenzi di Arezzo e della Camera Penale di Arezzo e vi posso dare anche una chicca, parteciperà anche il dottor Barbato che è il direttore del Mattino di Napoli e ci onorerà della sua presenza proprio perché anche lui ha pubblicato nel suo giornale il Mattino di Napoli tutte le lettere che Tortora spediva a Francesca Scopelliti, quindi un grandissimo evento. A oltre 33 anni dal fatto, era il 1983 quando successe quella notte che fu arrestato Enzo Tortora, a questo caso il giudiziario continua ancora a far parlare? Continua a far parlare perché purtroppo non è cambiato niente da allora, la giustizia è sempre malata, sia che veniamo accusati ingiustamente sia che ci siano scarcerazioni facili di persone che non devono essere scarcerate, ci sono i processi civili che hanno una durata decennale, è una cosa assolutamente insostenibile, questo convegno vuol mettere anche la sottolineatura su queste strutture giudiziarie che fanno male alla nostra democrazia, questo è un punto di discussione per cui vi invitiamo tutti a esserci perché sarà un grandissimo evento ma sarà anche un grandissimo spunto di riflessione per cui vogliamo che la gente ne parli, questo è il nostro primo obiettivo.